Un nuovo vantaggio Milano. Un momento delicato per Pistoia. Trova JJ. Va a schiacciare. E' brutto però l'intervento. Sport sorida a non perdere per gli appassionati di basket e soprattutto per quelli di Fede Biancorossa che da domenica sera potranno vedere o rivedere una delle più belle partite del Pistoia Basket. Gara 3 dei quarti playoff, stagione 2013-2014. Già raggiunto un risultato per certi versi storico con l'ottavo posto in regular season, la formazione di coach Moretti con Giajoa Johnson, Brad Wanamaker, Jack Galanda, Darren Washington e Gibson, tanto per citare qualche nome, aveva iniziato la volata a scudetto contro Milano, poi diventata campione d'Italia perdendo le prime due sfide al Forum di Assago. In un palacarrara strapieno e dir poco infuocato le cose però andarono diversamente. Appuntamento su TvL domenica sera alle 21.30, poi da lunedì le repliche su Sport TvL canale 193. Guannamaker per Darren Washington. Braw! Braw, 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 braw. Grazie a tutti!